Gli OSS della cooperativa Progetto Uomo di Nuoro prestano ogni giorno la loro assistenza a domicilio a pazienti fragili e allettati, alle categorie cioè più indifese di fronte all'eventualità di un contagio da Covid e ancora in attesa del loro turno di vaccinazione. Il problema è che oltre ai pazienti, nessuno dei 73 operatori sociosanitari della cooperativa fino ad ora è stato vaccinato. A differenza dei colleghi delle altre province sarde e nonostante le continue rassicurazioni da parte dell'ATS che presto verrà il loro turno. Teniamo a precisare che noi della domiciliare lavoriamo mediamente visitando dalle 4 alle 8 famiglie al giorno, quindi 8 utenti, 8 nuclei familiari che ruotano intorno a queste persone. Le famiglie stesse iniziano a chiederci se ci è stato somministrato il vaccino, non sappiamo più cosa rispondere a questo punto. Quindi riteniamo che sia arrivato il momento di procedere alla vaccinazione anche per la nostra categoria. 73 dosi, poco più di 12 fiale di vaccino che non si riescono a mettere da parte per una categoria di lavoratori che ogni giorno svolge un lavoro in cui nessuno può permettersi di contagiarsi. Anche perché in caso di contagio di un OS, questo viene sospeso momentaneamente dall'incarico e nessuno va a sostituirlo, mettendo in grande difficoltà i pazienti fragili e i loro caregiver, anche essi non vaccinati. Noi siamo stati forniti di tutti i dpi necessari dalla cooperativa, però tutto ciò non basta perché comunque noi spostandoci da una casa all'altra dovremmo cambiarci, igienizzarci e quindi molte volte non c'è neanche il tempo necessario per farlo. Quindi rischiamo di diventare dei vettori di questo virus e infatti per quello chiediamo alla TS che ci somministri al più presto il vaccino perché per il nostro bene, soprattutto per le bene delle famiglie che comunque andiamo a coinvolgere e soprattutto per evitare la diffusione del contagio del virus.